Oggi si festeggia Sant'Antonio di Padova, il Santo dei Miracoli. Auguri ad Antonio e Antonia. È uno dei santi più amati e venerati nel mondo cattolico. Le eccezionali virtù taumaturgiche per cui ha invocato hanno fatto di Antonio semplicemente il Santo. Anche in vita godeva di grande seguito e di sterminata ammirazione, tanto che pochi anni dalla morte i padovani gli hanno dedicato una bella chiesa di stile francescano, trasformata poi nella stupenda basilica di stile orientaleggiante, che è ancora meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Per i prodigi interiori che in essa frequentemente si compiono, appunto per l'intercessione e il fascino del Santo di Padova, Paolo VI l'ha definita la clinica spirituale, ossia l'ospedale dell'anima. Antonio è detto di Padova, in realtà nella città euganea ha vissuto solo pochi mesi di fila e anche in Italia è rimasto appena alcuni anni. La giovinezza invece l'ha trascorsa in Portogallo, dove era nato. Gli ha infatti dato i Natali, in Portogallo, intorno al 1195, la città di Lisbona. Antonio discendeva dalla nobile famiglia dei Bulois, i Tabeira dei Azevedo, da noi chiamati più semplicemente i Buglioni, che annovera tra i suoi membri il prodigo Fredo, ricordate il condottiero della prima crociata e conquistatore del Santo Sepolcro. Quindicenne, Fernando, questo era il nome di battesimo di Sant'Antonio, sorprendendo i genitori, entrò nella collegiata dei canonici regolari di Sant'Agostino, della città di Lisbona. Ma le frequenti visite dei parenti e degli amici lo distoglievano un po' dallo studio, dalla preghiera contemplativa, che erano i pilastri della vita agostiniana. E pertanto Antonio chiese di essere trasferito nel monastero di Coimbra. Una intelligenza acuta e brillante, in pochi anni è riuscito ad assimilare tanta cultura teologica, cultura scientifica e biblica, da meritarsi in seguito il titolo di Arca del Testamento. Gli studi severi non riuscirono però ad appagare appieno le sue aspirazioni e il suo animo generoso, per di più costretto a lottare contro la rilassatezza e il malcostume imperversanti in quel tempo. Antonio allora trovò la sua strada il giorno in cui a Coimbra prodarono le salme di cinque frati francescani che erano stati martirizzati nel Marocco, dove erano andati per annunciare a quei popoli la buona novella di Gesù. Ecco, dopo quel fatto Antonio decise di seguirne le urme e entrò infatti tra i francescani di Coimbra con il nome di frate Antonio. Avrebbe voluto coronare anche lui la propria vita con il martirio e si era imbarcato alla volta del Marocco per realizzare questo suo desiderio ardente. Ma appena giunto fu preso da febbri violente che lo lasciarono quasi mezzo morto, privo di forze. E così Antonio fu costretto a ritornare e durante il viaggio una tempesta lo fece naufragare sulle coste della Sicilia presso Milazzo. Si diresse poi ad Assisi dove si stava svolgendo il capitolo generale dei francescani detto anche delle Stuoie. Era l'anno 1221. Qui il nostro santo conobbe San Francesco che più tardi lo chiamerà con un soprannome. Francesco lo chiamerà il mio vescovo perché era ammirato della profonda dottrina di Antonio. Un giorno in occasione di una ordinazione sacerdotale venne a mancare il predicatore. Antonio lo sostituì e dimostrò una tale capacità oratoria e ricchezza interiore che colpì tutti gli astanti. Lasciò l'eremo e si mise a percorrere le strade polverose dell'Italia settentrionale e della Francia. Tra i suoi compiti anche quello di rintuzzare con la sua vasta e profonda dottrina gli eretici che allora erano gli alvigesi soprattutto che avevano infestato con la loro eresia il sud della Francia. Si racconta che nella eretica Rimini i cittadini rifiutavano di ascoltarlo. E allora cosa avvenne? Bello questo aneddoto. Il nostro santo Antonio andò a predicare ai pesci che fecero capolino dall'acqua, vi immaginate in riva al mare, trasformandola in un prato brulicante e squamoso. In un'altra città, eccolo, ecco Antonio sfidare gli eretici, inducendo una mula tenuta a digiuno o per più giorni a inginocchiarsi di fronte all'ostia consacrata. Tornato in Italia, Antonio si stabilì a Padova dove proseguì la sua attività di predicatore. A volte neppure le chiese bastavano a contenere la folla degli ascoltatori e si doveva ricorrere alle piazze. Il giorno 13 giugno, a soli 36 anni, muore mormorando, ecco vedo il mio Signore. Ci fu subito un'ampia contesa per il possesso delle spoglie del santo. Tutti lo volevano, anche da morto. Un anno dopo la morte, il Papa si convince a bruciare tutte le tappe della santità, avviando immediatamente il processo per la sua canonizzazione. I molti miracoli attiravano folle e folle di pellegrini che imploravano il suo aiuto. E allora anche noi oggi ci uniamo a queste folle che continuano a frequentare e a raggiungere la sua tomba e chiediamo a Dio il suo aiuto con la seguente preghiera. O grande taumaturgo di Padova, glorioso Sant'Antonio, a te che sei l'intimo amico di Dio, dispensatore delle grazie divine, ci rivolgiamo fiduciosi per aver aiuto e conforto. Per quel dolce bambino che stringi fra le braccia, per quelle carezze di paradiso di cui egli ti ricolma, per i suoi sguardi amorosi, per il gaudio celeste di cui tinebria, esaudiscici. Fa che il mondo ritrovi la luce e la verità nel Santo Vangelo di Gesù Cristo, dai cui insegnamenti vive lontano e rifiorisca ovunque la virtù, la fede e l'amore fraterno. Amen.